Ciao a tutti, oggi brownie alle ciliegie facciamo fondere in una casseruola a bagno maria 150 g di cioccolato fondente tritato e 100 g di burro spegniamo e lasciamo intiepidire in una ciotola lavoriamo 3 uova con 120 g di zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso aggiungiamo 80 g di farina 00 e un pizzico di sale incorporiamo ora il burro e il cioccolato fuso uniamo 150 g di ciliegie mature e snocciolate versiamo il composto in una teglia rivestita di carta forno distribuiamo sopra altri 50 g di ciliegie snocciolate 180 gradi statico per 35-40 minuti sfornate e lasciate raffreddare tagliamo in quadrotti e possiamo servire lasciami un like se anche questa ricetta ti è piaciuta noi ci vediamo alla prossima ciao